Ed eccomi qua, il vostro affezionatissimo Ale 280290 che è appena seguito e si sta ripigliando dall'annuncio delle candidature della 92esima edizione degli Academy Awards che si terranno il prossimo 9 febbraio, che premieranno il meglio del cinema del 2019 appena passato. Allora, abbiamo avuto 9 candidati all'Oscar come miglior film, di cui 1, 2, 3, 4 a quota 10. Nessun dominatore assoluto. Abbiamo The Irishman di Martin Scorsese, Joker di Todd Phillips, C'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino e 1917 di Sam Mendes, tutti a quota 10. Candidati anche per la regia, insieme alla rivelazione della Corea del Sud, Parasite, che riceve, scusate, l'emozione mi fa sbagliare l'edizione, che riceve 6 nomination. È la prima volta che la Corea del Sud viene candidata come miglior film straniero e sarà la prima volta che lo vince. Bong Joon-ho viene candidato anche per la regia e la sceneggiatura originale, oltre che la categoria principale, il mio film oltre al film straniero, candidato anche per il montaggio e la scenografia. 6 nomination. Così come 6 nomination, ottengono altri 3 candidati all'Oscar come miglior film, ossia Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, Jojo Rabbit di Taika Waititi, entrambi candidati ignorati per la regia ma candidati per la sceneggiatura originale e non, e Scarlett Johansson, candidata come attrice protagonista per Storia di un matrimonio e non protagonista per Jojo Rabbit, e abbiamo anche Piccole donne di Greta Gerwig, ignorata per la regia ma candidata per la sceneggiatura non originale, e anche Sassai nomination, con Sir Charonan alla sua quarta nomination nei panni di John March, e alla sua prima nomination in assoluto Florence Pugh nei panni di Amy March. E a completare la categoria dei candidati al miglior film abbiamo Le Mans 66, in originale Ford vs Ferrari, che ottiene 4 nomination, 3 tecniche, montaggio, mixaggio sonore e montaggio sonoro, e una importante come miglior film, e ci sta tutta. Allora, io sono contento tra contentezze e delusioni. Allora, sono contento, iniziamo attore protagonista, sono contento di vedere candidato il mio beniamino Joaquin Phoenix, e strafelice di vedere la sua prima nomination Antonio Banderas per Dolori Gloria di Almodovar, candidato anche con il mio film staniero. Sono dispiaciuto che Rocketman Taron Egerton non sia stato candidato per il suo magnetico Elton John, nonostante il Golden Long fit come miglioratore brillante. E al suo posto però ce la fa DiCaprio, che era candidato a Golden Globe, e adesso è candidato anche all'Oscar per C'era una volta a Hollywood, per cui è candidato anche Brad Pitt, come miglior attore non protagonista, sicuramente lo vincerà. Attrice protagonista, mi spiace che non ce l'abbia fatta Lupita Nyong'o per noi, l'opera seconda di Jordan Peele, che non riceve nessuna nomination. Tra gli attori non protagonisti tutto va bene, c'è anche il mio attore preferito in assoluto, Tom Hanks, candidato per la prima volta come non protagonista per il suo Fred Rogers di Un Amico Speciale, A Beautiful Day in the Neighborhood. Tra gli attrici non protagoniste, mi spiace, non ce l'ha fatta Jennifer Lopez, nonostante la sua acclamata performance nelle ragazze di Wall Street, Hustlers in originale. Però, vabbè, molti film li devo vedere, Richard G, Will, Jojo Rabbit, Piccole Donne, Bombshell, li devo recuperare, sicuramente li recupererò. Ma tra il sceneggiatore originale, anche se è l'unica nomination, c'è anche Cena con Delitto, Knives Out, di Rian Johnson, alla sua prima nomination per questa fantastica sceneggiatura di questo fantastico thriller-comedy giallo, un mix di generi che a me è piaciuto particolarmente tanto. E tra i film d'animazione, allora, il disneyano che è in me da una parte felicissimo perché c'è Toy Story 4, che è candidato anche per la canzone I Can't Let You Throw Yourself Away Di Randy Newman, candidato anche per la colonna sonora di Storia di un Matrimonio. Però è dispiaciuto perché non ce l'ha fatta Frozen 2, non è candidato come miglior film d'animazione, nonostante il primo l'avesse vinto. E è candidato per la canzone Into The Unknown. E tra gli altri candidati come film d'animazione ci abbiamo anche Dragon Trainer 3, Il Mondo Nascosto, c'è Missing Link della Laika che ha vinto il Golden Globe a sorpresa, Dov'è il mio corpo? Da Netflix. E sempre da Netflix il mio preferito in assoluto per con Fata 6! Ossia Klaus, i segreti del Natale. Un capolavoro, per me è un capolavoro. Deve vincere quello assolutamente. Sempre parlando del disneyano che è in me, allora, sono dispiaciuto che Star Wars, la scesa di Skywalker, abbia confermato un training incalando della trilogia. Perché il primo Star Wars, cioè il primo di questa trilogia, Il Risveglio della Forza, è candidato a 5 Oscar. Montaggio, mixaggio sonoro, montaggio sonoro, effetti visivi e colonna sonora. Mentre Gli Ultimi Jedi ha mancato il montaggio, quindi è candidato mixaggio sonoro, montaggio sonoro, effetti visivi, colonna sonora originale. Mentre la scesa di Skywalker, manca il mixaggio sonoro, quindi candidato montaggio sonoro, effetti visivi e colonna sonora. Nella categoria effetti visivi abbiamo altri due titoli della Disney, ossia, il mio prediletto in assoluto, Avengers Endgame, unica nomination all'Oscar per questo film, come per Infinity War e per il primo di Avengers, e Joe Vulton non era stato candidato, e c'è anche Il Re Leone, a completare la cinquina di Irishman nel 1917, che le avevo già menzionati. Mentre nel trucco parruco, che quest'anno sono 5 i candidati, da quest'anno sono 5, abbiamo Bombshell, abbiamo Joker, Judy, 1917, e Maleficent, Signora del Male, incredibile. Non ce l'ha fatta Rocketman e neanche c'era una volta Hollywood. E uno dei miei film preferiti in assoluto, dopo Klaus era il mio preferito in assoluto di Netflix, ossia Dolemite Is My Name, con uno straordinario Eddie Murphy, che ha vinto Dolemite Is My Name, il premio della critica stanotte per Miglior Commedia, e anche il premio per i costumi a Ruth Carter, che l'anno scorso vinse con Black Panther, sia ai Criticative Choice Award che agli Oscar. The Tolemite Is My Name è uno dei titoli che è stato totalmente ignorato dall'Academy. E la cosa mi fa leggermente incazzare, perché è un titolo che merita, e anche Eddie Murphy avrebbe meritato la nomination. Ma non ho nulla in contrario contro i 5 candidati. Mi sorprende Jonathan Pryce, anche se il suo padre Bergoglio, in I Due Papi, per cui è candidato anche Anthony Hawkins, come attore non protagonista per Ratzinger, ed è candidato anche per la Scenicettura non originale di Anthony McCartney, però sono delle belle performance, sono contento che siano candidati. Però mi spiace un sacco per Eddie Murphy, Dolemite Is My Name, Rocketman, che è candidato solo per la canzone I'm Gonna Love Me Again, che spero che a questo punto Elton John e il sodale Bernie Taupin, dopo il Golden Globe e il Critic's Choice Award, spero che vincano almeno quest'unico Oscar, per cui è in lizza Rocketman. Mi spiace veramente per Taron Egerton, Eddie Murphy tra gli attori protagonisti, Lupita Nyong'o tra l'attrice protagonista, che non è candidata per noi, così come non è candidata, nessuna candidatura per The Farewell, né Acqua Fina, nonostante il Golden Globe come miglioratrice brillante, e neanche l'asceniciatore originale di Lulu Wang, che meritava, secondo me, la candidatura. E tra l'attrice non protagonista, mi spiace che non ci sia Jennifer Lopez per Hustlers, ma l'avevo già detto. Poi farò un commento più specifico, più nel dettaglio, quando vedrò anche gli altri film candidati, e le mie priorità sono per questa settimana Piccole Donne di Greta Gerwig, che ne parlano strabene, poi per la settimana prossima arriverà Jojo Rabbit di Taika Waititi, e la settimana dopo ancora 1917 di Sam Mendes, che ha iniziato il suo percorso triunfale al botteghino americano, trainato dai due Golden Globe vinti domenica scorsa come un biofilm drammatico e miglioregia. E adesso queste altre dieci nomination aiuteranno senz'altro. E voi che ne pensate di questi candidati? Sono stato bravo, sotto gli otto minuti, fatemi sapere nei commenti, YouTube, Facebook, quello come volete, e il vostro Ale 280290, vi saluta. Viva gli Oscar! Viva il cinema! Sì!